Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video su Destiny 2. Oggi trattiamo di un argomento che mi avete chiesto in tanti di trattare ed è l'argomento delle mod. Le mod, come sapete, sono un punto importante, quasi fondamentale della costruzione delle nostre build e soprattutto per la loro utilità all'interno delle nostre build. E mi avete sempre chiesto dove si prendono determinate mod, che attività devo fare eccetera eccetera. Oggi vi faccio vedere, visto che siamo arrivati al punto in cui possiamo dire di conoscere quasi tutte le informazioni riguardo alle mod e dove si prendono, posso farvi una piccola guida e spiegarvi dove prendere qualsiasi mod che state cercando. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e partiamo subito con le mod generiche. Mod generiche che entrano all'interno del primo slot di tutte quante le vostre armature 2.0 e sono le mod, quelle perfette, della disciplina, forza, intelletto, insomma, mobilità. Tutte quelle che vanno ad inficiare sulle nostre statistiche della singola armatura. E in più le varie resistenze, quindi resistenza ai boss maggiore, minore e dell'elemento. L'elemento naturalmente matcha quello della nostra energia, quindi la resistenza da vuoto naturalmente sarà all'interno delle armature da vuoto. La resistenza d'arco nella resistenza nelle armature ad arco e solare appunto nelle armature solari. Quindi questo è abbastanza semplice. Dove si prendono queste mod? Allora, le mod generiche si possono prendere ovunque, letteralmente ovunque. Le potete trovare all'interno degli engrammi che trovate per terra, all'interno degli engrammi esotici, dei drop random all'interno del mondo di gioco. E in più, se volete invece, tra virgolette, farmarle, potete prenderle anche da Banshee. Quindi se vi manca qualsiasi mod generica, a parte che lui ne vende, quindi se volete, potete venire ogni tanto da lui, controllare che mod ha e se non ce l'avete ve la farà comprare. Ok? Altrimenti vi dirà, come in questo caso già posseduto, sia naturalmente per quanto riguarda le mod armatura, sia per quanto riguarda le mod delle armi. Altrimenti con i pegni. Dategli pegni, riceverete diverse mod, sia da lui, ma soprattutto dai vendors. Se avete tanti pegni o dell'avanguardia o del crogiolo, io per esempio al day one, quando ho cominciato a farmare con Shaxx, ne ho fatte tantissime. Tantissime mod, soprattutto quelle iniziali, le ho prese da lui. Quindi tenetelo a mente perché queste sono le risorse maggiori senza che state lì ad aspettare di dropparle o di prenderle da qualche altra attività. Venite qua, date i pegni e siate sicuri che sicuramente prima o poi la mod che cercate la trovate. In questo loot pool, quindi di pegni, armaiolo e mondo di gioco, quindi qualsiasi attività, trovate anche le altre mod generiche che entrano all'interno di tutte quante le armature e che sono naturalmente quelle relative alle armi. Quindi i vari cercatori di munizioni e la mira di qualsiasi arma sul casco, naturalmente questo riguardo a tutte le armi. Come sempre vi ricordo che ci sono diversi tipi di armi associati al tipo di elemento, quindi in quello da vuoto trovate lanciagranate, cannoni portatili, fucile da ricognizione e armi da supporto, sia per quanto riguarda appunto il cercatore sia per quanto riguarda la mira. Su quelli solari invece trovate gli automatici, i fusione, i fusione lineari e i lanciarazzi e infine su quello ad arco trovate mitraglioni, arco, impulsi e fucili a pompa. Tutte queste mod che vedete qui, quindi i cercatori e le mire sui caschi invece per quanto riguarda le braccia abbiamo i caricatori e altre mod generiche per le granate e altre mod generiche sempre per caricatori che non sono espressamente dell'arma sui guanti. Sul petto invece troviamo le riserve che sono molto importanti le riserve e in più anche l'antisussulto, importante da avere soprattutto nella parte pvp ma ci arriviamo tra poco a questo. Sulle gambe invece trovate il saccheggiatore, altro perk importante per il pve e in più la destrezza che è sicuramente molto più importante in pvp come vedete sono divise in due, diciamo che c'è la parte pvp e la parte pvp. Mentre importante sul patto ci sono tutte quelle altre mod che sono molto ma molto importanti come già meglio, distribuzione, perpetuazione, tutte quelle che riguardano le mosse finali, tutte quelle che riguardano le connessioni riguardo alle uccisioni con una determinata arma per prendere l'energia della super. Mentre sulla parte solare troviamo altre mod diverse che riguardano invece le granate come polvere alle armi potenziata e polvere alle armi normale insomma. Tutte queste qua si trovano appunto sui vostri patti quindi il patti in questo caso dello stregone, il marchio del titano e appunto il mantello per quanto riguarda il cacciatore. Tutte queste mod che vi ho fatto vedere adesso stessa cosa di quelle generiche le trovate all'interno del mondo di gioco quindi molto molto facilmente spammate i pegni, fatevi un giro appunto da Banshee e piano piano le troverete quasi tutte. Facciamo velocemente un giro anche su una piccola cosa ovvia che è quella che riguarda il manufatto stagionale. All'interno del manufatto trovate altre mod che avete visto sono quelle azzurre. Nella prima colonna troviamo altre mod generiche che sinceramente sono un po' così nel senso che non sono molto utili a parte per qualche piccola cosa. Per esempio io ho un saccheggiatore di circuiti che mi permette di sconfiggere i combattenti Vex, fornisce lumen aggiuntivo che se per esempio siete accorti di lumen può essere utile. Nella seconda colonna trovate delle mod delle armi che sono appunto i proiettili anti barriera, per cannoni scusate, per i fucili automatici e mitragliette e quelli sovraccarichi per sempre automatici mitragliette e arco. Poi abbiamo i caricatori potenziati, come vedete i caricatori potenziati in questo caso sono blu quindi questi caricatori possono entrare in qualsiasi tipo di armatura che siano queste da vuoto, da arco o solare. Faso importante rispetto agli altri caricatori potenziati questi costano soltanto uno quindi oltre a poterli mettere dappertutto costano anche molto poco. Io per esempio in questo momento sullo stregone ho sbloccato il caricatore per i cannoni portatili e le mitragliette e anche i fucili automatici. Ho tralasciato gli archi e i fusione perché sinceramente li uso molto poco però queste tre mi aiutano molto soprattutto quando per esempio uso appunto i cannoni portatili, la sceta e magari il Monte Carlo. Nella terza colonna invece cominciamo a trovare quelle di elutilità che sono molto strettamente relegate alla nostra sottoclasse e al modo in cui vogliamo giocare quindi esulano un po' dal video però sappiate insomma che qui ne trovate a bizzeffe tra cui il rifrattore della breccia che è secondo me una delle mod più utili da avere. Poi naturalmente questa scelta del manufatto va fatta in base al vostro personaggio e a come lo utilizzate. Sull'ultima colonna invece trovate quelle che vanno sul patto o sul marchio o il mantello che appunto qui le due più utili che io di solito sblocco sono oscurità opprimente e in questo caso dalle profondità ma ci sarebbe anche la bobina del tuono. Calcolando che però la parte ad arco dello stregone la uso veramente molto poco vi ricordo che questa roba qui si può resettare si può ripristinare il manufatto però sappiate che ogni volta che lo fate il prezzo salirà. Io adesso sono a 25.000 ma di base è 10.000 quindi parentesi mod generiche finita andiamo su quelle importanti e parliamo di quelle potenziate. Le mod potenziate sono quelle mod che ci permettono di fare quello scalino in più rispetto a appunto la mod normale che ci permette di essere decisamente più forti sotto alcuni aspetti. Le mod potenziate io le consiglio per fare alcune cose in PvE ma soprattutto la maggior parte in PvP come per esempio può essere la mira dei fucili di precisione che aumentano notevolmente l'acquisizione del bersaglio, la precisione e la velocità di mira dei fucili di precisione. Stessa cosa per quanto riguarda la mira dei canoni portatili molto utile soprattutto da avere su console. Queste mod qui tutte quelle con il più insomma tutte quelle potenziate o meglio la versione generica potenziata come può essere anche il caricatore potenziato per i lanciacranate o per i canoni portatili insomma tutto quello che è potenziato e che entra nel secondo slot e che è la versione potenziata di una mod generica la potete trovare in due modi. Il primo è quello di fare scala la notte al vario e di farlo nella versione almeno da 9.20 in su. Al 7.50 sinceramente non so se c'è una possibilità di droppare le mod forse sì ma è veramente veramente molto molto bassa dal 9.20 in su naturalmente la percentuale si alza e se riuscite a fare il 9.50 tanto meglio se riuscite a fare il 9.80 tantissimo meglio sappiate che più andate avanti con difficoltà scusate e più ci sarà possibilità di droppare appunto queste mod. Il problema qual è? Il problema è che naturalmente ci vuole tanto ci vuole tanto a farmare un cala ci vuole tanto a finirlo tutto e poi il drop non è garantito insomma ci vuole un pochino ok? Come possiamo sfruttare al meglio questa cosa delle mod potenziate? Beh questa settimana c'è forse il sistema più semplice per poterlo fare e il sistema più semplice è Lord Saladin. Lord Saladin questa settimana è in torre come sapete appunto c'è lo standardo di ferro e lui essendo considerata un'attività del pinnacolo perché come vedete appunto le taglie droppano e l'armamento di punta è l'unico armamento che ci permette di superare il soft cap di 9.50. Se venite da Lord Saladin e magari avete vecchie mod che vi siete detenuti dalle vecchie stagioni oppure semplicemente farmando lo standardo di ferro durante appunto questi giorni per fare le taglie e per fare la quest per prendervi poi le armature prendete i vostri pegni e usateli tutti perché avrete la possibilità di trovare appunto queste mod che sono molto ma molto importanti. Quindi tenete in mente Lord Saladin è una delle fonti più importanti di mod e soprattutto più semplici senza che vi sbattete troppo. Certo c'è da fare del pvp ragazzi c'è da fare del pvp quindi insomma valutate voi se preferite farmare il cala la notte e metterci più tempo piuttosto che farvi le taglie e fare lo standardo di ferro calcolate però che questo armamento di punta comunque vi fa gola. Finiamo con le mod delle attività che potete trovare all'interno soltanto di alcune armature per esempio quelle che hanno l'alloggiamento vuoto dell'intramontabile al suo interno potete mettere diverse mod tra cui le mod degli incubi quindi quelle che si prendono all'interno delle cacce che ci permettono di fare più danni agli incubi oppure di ricevere meno danni. Cosa importante ci sono all'interno di queste armature 2.0 la possibilità di trovare anche delle mod del nuovo ride ok che si possono utilizzare qui quella che si utilizza di più e quella che consiglio di utilizzare di più sono la difesa potenziata per ripetitore naturalmente questa è la versione potenziata ma c'è anche la versione normale. Questa fornisce un considerevole potenziamento ai danni dell'arma finché si rimane entro 5 metri da un ripetitore vex attivo quindi è molto utile per fare i danni quando siamo vicini a qualche altare soprattutto nella fase del boss. Come si prendono queste mod? Semplice queste si prendono all'interno del ride e quelle per gli incubi si prendono all'interno delle cacce che si possono fare appunto qui sulla luna. Però ci sono anche altre mod molto interessanti che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni passate e sono quelle mod appunto che riguardano invece i singoli nemici. Per esempio per esempio se andiamo a prendere un casco del ride del shakura del passato vediamo che ha un altro tipo di simbolo qui c'è un altro tipo di mod che si può mettere qui dentro volendo se naturalmente riuscite a farmare in modo considerevole i ride vecchi in questo caso shakura del passato potete prenderve al suo interno magari trovare le mod che riguardano i caduti come armamenti dei caduti difesa per i caduti eccetera eccetera. Quindi farmando i ride vecchi si possono trovare anche mod vecchie ma nella versione nuova 2.0. Esempio pratico per esempio nella mente dell'ombra che questo è un pezzo vecchio che riguarda appunto il ride di corona del tormento dove io avevo messo armamenti dell'alveare e queste naturalmente sono mod vecchie. In queste qui sono tutte mod che riguardano la stagione scorsa armamento dell'alveare si può trovare anche nella sua versione 2.0 così come anche questa armatura. Quindi se volete aggiornare e se volete avere magari un armamento dell'alveare che è sicuramente una mod strautile da avere fatevi ride vecchi perché appunto si trovano lì. Quindi questo è quanto signori allora le mod generiche le potete trovare in qualsiasi tipo di modo all'interno del mondo di gioco ma vi suggerisco di trovarle attraverso i pegni che potete dare da tutti i vendor compreso appunto Shaxx e Zavala la torre che sono quelli un po' più generosi. Quindi quelle potenziate primo luogo vi suggerisco di utilizzare Saladino e i suoi pegni per utilizzare appunto i suoi engrammi per prendere le mod altrimenti farmatevi il cala la notte da 9.20 in su. E in più tutte quelle delle attività naturalmente le troverete all'interno dell'attività stessa quindi nel ride giardino della salvezza trovate le mod del ride giardino della salvezza. All'interno di tutti gli altri ride naturalmente troverete sia le erbature aggiornate per l'alloggiamento 2.0 sia le nuove mod. Quindi questo è per racchiudere in un solo video scusate se mi sono dilungato troppo il sistema di mod 2.0 fatemi sapere qui sotto nei commenti se per caso mi sono dimenticato qualcosa o se conoscete qualche altro metodo per prendere appunto le diverse mod. Io spero come sempre che questo video vi sia stato utile vi ricordo se volete di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Destiny 2. Noi ci vediamo alla prossima ciao.